Ciao e bentornati sul canale! Bentornati carissimi amici, ultima puntata dei Minions come si chiamano questi fruit sound di Eurospin allora, ricapitolando, oggi abbiamo l'ultimo che è Dave Peperone appartiamo subito così, volevo ricordare che 30 euro di spesa un Minions e 60 non 2, sempre 1, è 1 ogni 3, cioè a raggiungimento dei 30 allora, rifacciamo, questo è il primo che abbiamo trovato che era, Carmela, Tinca Rota che è il secondo Jerry Pomodoro aspetta, rifacciamoli vedere tutti da capo allora, abbiamo detto allora, abbiamo detto Carmela ok, falli vedere più intanto che provo a modificare le luci ok, Jerry Pomodoro penultimo e o i banana e poi questo lo faccio vedere io perché non mi preferisco vai voilà allora, prima di fare la classifica finale apriamo il nostro peperone giusto? mettiamo quelli più alti dietro quelli più bassi davanti se la puoi fare, ho finito in te, guarda ho il singhiozzo bene, fantastico durante la recensione il singhiozzo è la cosa migliore che possa capitare esatto ma noi lo lasciamo il singhiozzo allora, vediamolo prima di far partire vai, taglia la linguetta allora, bello è bello c'è poco da fare con i due peperoni e lui è il terzo vai, schiaccia campai 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 sembra dire campai che in giappon... eh? e vai, no campai 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 che in giapponese è un po' come il nostro cin cin giusto? risentiamolo e allora prima della classifica tutti insieme appassionatamente tu prendi ne tre via vai, adottazione il silenzio allora facciamo sentire da vicino quello nuovo e questo è carino allora classifica dei personaggi e poi classifica dei suoni vai al sesto posto ultimo posto ultimo ultimo prima l'ultimo e non stelare subito il primo ultimo posto del personaggio personaggio abbiamo Jerry Pomodoro e in effetti non devo far ascoltare perché parliamo solo del personaggio poi al quinto posto Carmela al quarto posto Tim Carota giusto? e al terzo posto quindi sul podio intanto io risposto un po' sul podio che abbiamo? è indecisa sta osservando Jerry Pepperone non mi ricordo la banana del peperone no attento secondo me al primo la fragola perfetto e questa è la classifica dal primo al sesto posto della statuina diciamo e invece dei suoni lì riascoltiamo un attimo io ho già la mia almeno il mio primo posto non è facile allora l'ultimo posto lo sentiamo aspetta e o i banana all'ultimo posto ah questo al penultimo non pensavo va bene andiamo avanti poi siamo indecisi e la scelta la facciamo in diretta con voi e al quarto posto al quarto posto il pomodoro e podio peperone fragola e ovviamente concordo anch'io la carota facciamo sentire il vincitore ma la cosa che lo fa vincere secondo me è no è quella la cosa principale bene ma anche perché è più lungo anche perché è più lungo è vero quindi questa è quella più corta eh sì questo è quello più corto però è la statuina più bella secondo me a me piace di più questo sinceramente mi piace e la frase è anche carina devo dire quindi contenta di questa collezione voilà direi che siamo stati contenti se avete seguito fino a qui recensione col singhiozzo non l'abbiamo ancora fatta ed è la prima volta è sempre una novità eh vi ricordo oggi è la prima volta sì oggi è la prima volta sì vi ricordo di iscrivervi al canale mettere un like condividere commentare eh e scacciare la campanella per essere ragionati sui futuri video eh uscirà sicuramente qualcosa di nuovo eh Sara tu vuoi aggiungere qualcosa? mh t'ho preso proprio perché eri distratta no cosa vuoi aggiungere? niente e allora e allora come sempre? voilà voilà e noi come sempre vi sfruttiamoci vediamo al prossimo video ciao ciao